I Kiss vorremmo ascoltarli fino alla fine, I was made for loving you, chi non aveva questo vinile, questo brano, questo singolo, ma anche il 33 giri, grandi Kiss, mitici, primi con la musica di ieri, ricordiamo Radio Roma. Una domenica vogliamo stravolgere un po' il nostro palinsesto, veniamo vestiti da Kiss. Dai, non ci resta che il crimine. Si ci vedo comunque teane, vestita da Kiss. Va bene, io faccio il chitarrista, anche Gianluca però vestito in regia. Tu fai il batterista. Faccio il leader, faccio il frontman, il cantante. Un giorno veniamo, magari a conclusione prima delle vacanze estive. Allora diamo ancora pillole di europei naturalmente perché oggi ci sono tre partite e poi parleremo dell'Italia in settimana. Sì, allora la partita di oggi pomeriggio sono alle 15 l'Inghilterra contro la Croazia, alle 18 Austria contro Macedonia del Nord, mentre alle 21 abbiamo Olanda-Ucraina. Benissimo, poi continua il girone A per l'Italia, per la nostra nazionale che si sta comportando molto molto bene con due partite, proprio una partita in settimana, Giordano, mercoledì. Mercoledì 16 giugno alle ore 21 contro la Svizzera, mentre il 20 giugno domenica alle 18 contro il Galles. Esatto e quindi continueremo a... Quindi sarà grande tifo italiano e speriamo di ripercorrere il sogno degli anni 90, delle famose notte magiche con Baggio e con... Continueremo a tifare e a sostenere la nostra nazionale. Esatto, esatto. Adesso invece cambiamo completamente argomento e tra poco presentiamo il nostro ospite perché parliamo di comunicazione. La comunicazione è profondamente cambiata con l'era digitale, con l'avvento del web e con i social stessi, quindi la nostra società e i nostri costumi sono completamente cambiati, la nostra vita si è trasformata. Ne parliamo con il dottor Francesco Di Costanzo, presidente di Pass Social, associazione italiana per la comunicazione e informazione digitale. Eccolo inquadrato sul canale TV Digitale Terrestre 115, Lazio e Lombardia, poi via via i numeri cambiano e sull'FM 104.0 Roma e Lazio. Benvenuto dottor Di Costanzo, ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Di Costanzo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Con lei parliamo quindi dei cambiamenti profondi che l'era digitale, il web ha cambiato e proprio ha trasformato le nostre vite, il lavoro, anche la scuola, anche i ragazzi naturalmente, con un libro che lei appunto ci presenta, ne parla oggi con noi, Digitale, la nuova era della comunicazione e informazione pubblica, storia e prospettive del modello italiano, giunti editore. Come nasce l'idea di questo libro, presidente, e soprattutto a chi si rivolge? Ma guardi, nasce dalla voglia di raccontare quello che è successo nel nostro paese, diciamo dal 2015 a oggi e anche col voler mettere nero su bianco quello che c'è ancora da fare. Fortunatamente abbiamo tante buone pratiche in questo settore, che è, come avete detto voi, quello della comunicazione e informazione pubblica digitale, sia a livello nazionale che a livello locale, tantissime istituzioni che utilizzano le piattaforme digitali per dare servizi ai cittadini. Ecco, insieme anche a Domenico Bonaventura, che ha collaborato a questo libro, abbiamo voluto raccontare cosa non c'era nel 2015 quando abbiamo iniziato questo percorso e cosa invece esiste oggi con un'Italia che comunque è, a livello internazionale, quella che ha più buone pratiche di settore e che però ancora ha molta strada da fare, come abbiamo visto purtroppo anche nel corso della pandemia. Dicevamo con il collega Giordano Petri, ha stravolto le nostre vite, l'avvento della tecnologia. Assolutamente, poi ho letto che il 70% delle persone proprio si sono affidate anche sotto il periodo del lockdown all'era digitale, insomma a tutti gli strumenti digitali, non soltanto lo streaming televisivo ma proprio anche il cellulare per poter fare attività fisica, per poter supplire anche tutte quelle attività che non si potevano fare di presenza. E se volevo sapere quanto questo rimarrà e condizionerà la nostra società? Ma diciamo intanto vi do anche un altro dato del nostro osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale che dice che oltre l'80% dei cittadini chiedono di avere servizi e informazioni dalle pubbliche amministrazioni su questi canali, perché alla fine da Facebook a WhatsApp, da Instagram fino a TikTok, insomma ormai l'utilizzo di questi strumenti è molto normale per tutti, è quotidiano appunto, ma anche ormai con ampie fasce di età coperte perché anche diciamo così i più anziani ormai appunto WhatsApp o Facebook sono strumenti considerati per esempio dai più giovani strumenti che non utilizzano più e vanno magari su TikTok o altri Twitch o altri canali, insomma. Cosa succederà? Non è facilissimo saperlo. Io credo che rimarrà una modalità mista quando potremo finalmente tornare a una vera normalità, avremo la presenza, è ovviamente insostituibile, però i benefici del digitale proprio per semplificare la vita quotidiana li abbiamo visti tutti appunto, purtroppo anche in questi mesi difficili. Dottor Di Costanzo, anche una domanda sulla scuola. La scuola è profondamente cambiata in questi 15 mesi. I ragazzi, gli stessi docenti si sono adeguati e abituati alla DAD. Come vede la scuola? Il futuro? Ci sarà una trasformazione ulteriore? Si adatteranno? Continueranno alcune lezioni in DAD? Come vede questa trasformazione anche nel mondo della scuola? Io credo che ovviamente ci sono state tantissime cose in negativo, perché ovviamente la scuola fatta in presenza è tutta un'altra cosa, però nello stesso tempo ci si è dovuti abituare a una modalità digitale, forse essendo un po' troppo indietro su questo, prendiamo la parte buona e diciamo che grazie purtroppo a una pandemia si è capito che gli strumenti digitali possono essere utili, quindi anche qui probabilmente nessuno giustamente potrà mai sostituire la presenza, il lavoro fatto nelle scuole tra docenti, alunni a livello di presenza, però aver capito che gli strumenti digitali possono essere di supporto fondamentale, questo credo sia stato molto importante. Dicevamo con il collega Giordano Petri, anche per il nostro mestiere specifico di conduttori radiofonici e anche per chi scrive sui giornali, soprattutto lo spettacolo, la musica in particolare, per quel che ci riguarda, Dottor Di Costanzo, abbiamo visto l'utilizzo molto di alcune piattaforme come Zoom per le conferenze stampa, ci sono state conferenze stampa di grandi artisti, alla portata di tutti, perché magari non tutti da Roma, ma si sarebbero potuti spostare sempre a Milano, quindi questo ha fatto anche un po' a costo zero, potrebbe continuare, è stata un'opportunità per tutti noi, per i colleghi di radio, di tv, di giornali, di partecipare esattamente tutti insieme alle stesse conferenze stampa di artisti, di cantanti, di musicisti? Non c'è dubbio, è una grande occasione, però dobbiamo anche dire che ovviamente c'è anche un tema economico, che magari sta dietro anche al lavoro degli artisti, per cui ci sono delle cose fatte in presenza, che quando ripartirà la normalità piena torneranno probabilmente solo in presenza, ma il mix, noi abbiamo avuto qualche giorno fa il nostro Pia Social Day, la quarta edizione, che è stata appunto un mix con i relatori in presenza in 18 città italiane, una lunga maratona digitale che potevano seguire tutti su vari canali social, ed è stato un grande successo. Io credo che il mix tra le due cose sarà quello che funzionerà nei prossimi mesi e anni, insomma, anche perché ormai l'evento digitale, costruito bene, seguito anche in diretta, con un dialogo e un'interazione costante, è diventata quasi la normalità. Beh, il mix è giusto, dicevamo. Io volevo soltanto sapere una cosa, questa è ovviamente la parte positiva dell'uso dei social, c'è anche la parte negativa, come sappiamo. Io volevo sapere se ovviamente il social diventerà alla portata di tutti, quindi farà parte del nostro vivere quotidiano. possiamo confidare in un maggior controllo anche da parte delle istituzioni, della polizia postale o quant'altro, per poter anche fare un controllo maggiore netto nei social, in quello che può capitare o accadere in senso negativo. I garanti, i propri garanti. Quindi farsi garanti appunto di ogni pena, di ogni atteggiamento scorretto. Sì, diciamo, allora, sul fatto che i social siano di uso e utilizzo quotidiano da parte di tutti, ormai questo succede da anni e ripeto, ci sono tante piattaforme, poi ognuno sceglie quella che preferisce, però possiamo tranquillamente dire che ormai praticamente tutti li utilizzano per vari motivi e nel nostro caso, insomma, noi spingiamo perché vengano usati appunto per l'utilità, per il servizio pubblico, per la comunicazione, l'informazione, i servizi ai cittadini. L'attenzione è cresciuta tanto già negli anni pre-pandemia e soprattutto in quello che è successo ormai in più di un anno di pandemia, sia da parte delle istituzioni che da parte delle stesse aziende, dei social, che hanno un'attenzione diversa, pensiamo all'odio in rete, a contenuti, diciamo, non positivi. Purtroppo anche loro ci sono arrivati sulla scia, insomma, di proteste, di situazioni anche non piacevoli, però devo dire che, insomma, oggi questo succede molto di più, però servirà sempre, noi insistiamo molto su questo, un grande investimento da parte del pubblico, ma anche del privato, sulla cultura digitale, cioè far sapere alle persone come si usano questi strumenti, che caratteristiche hanno, quali sono le opportunità, le potenzialità e ovviamente conoscerne anche i rischi, no, per evitarli. Quindi un libro, veramente un libro laboratorio per una società in continua evoluzione. Prima di salutarla, dottor Di Costanzio, ringraziarla, ricordiamo Pass Social, proprio sui canali social, dove possono trovare e vedere tutte le progettualità? Sì, allora, abbiamo il sito web, piassocial.info e poi su tutti i principali canali social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube e anche in chat con un canale pubblico su Telegram e anche su TikTok, quindi ci trovate un po' ovunque, l'attività di Pias Social è costante, quotidiana, anche appunto con un'attività di formazione e divulgazione legata a tutti i temi del digitale e della comunicazione. Benissimo, quindi ricordiamo Pias Social, Pa Social, così trovate, Associazione Italiana per la Comunicazione e Informazione Digitale. Noi la ringraziamo moltissimo di essere intervenuto a Radio Roma, grazie e buon lavoro. Grazie, dottor Costanzio. Grazie, grazie Francesco Di Costanzio, buon lavoro a lei, grazie. Noi ci fermiamo per un po' di musica e poi torniamo tra poco su Radio Roma. Poco poco, eh? Poco poco. Radio Roma. Radio Roma.